Da oggi il bagno al mare sarà più sicuro per chi frequenta la spiaggia libera. Quella in questione è il pezzo di spiaggia tra bagni delle poste italiane e il porto, che da oggi vede attivare un servizio che prima non riceveva e che nessun'altra spiaggia libera della costa pesarese riceve. La tragedia avvenuta nelle acque di Fano e gli episodi che si sono verificati a Pesaro lo scorso weekend ha fatto drizzare le antenne ai bagnanti e ai gestori dei bagni, che nel pezzo di litorale di Ponente interessato hanno segnalato al comune di Pesaro la presenza di una buca in acqua di circa 15 metri quadrati, pericolosa per chi va a fare il bagno. Nello fine settimana che è appena trascorso, lunedì e martedì in realtà, ci sono giunte alcune segnalazioni di un pericolo o comunque di una sensazione di pericolo nella zona che qua le mie spalle, legata al verificarsi, al realizzarsi di una buca dovuta alle correnti. E quindi questo pericolo ha portato alcune persone a preoccuparsi e a segnalarlo anche per il rischio comunque che di fronte alle correnti si possa trovare impreparati. E quindi questa mattina abbiamo subito con il centro operativo segnalato con una cartellonistica e con delle boe questo pericolo e abbiamo anticipato il servizio di salvataggio. Il servizio di salvataggio che quindi qua in questa zona è già partito anche nei giorni feriali, quindi già da oggi compreso il fine settimana e quindi lunedì e martedì fino alla fine del mese sarà garantito nell'orario 10.18. Un servizio ulteriore che in poche ore il Comune di Pesaro è stato in grado di offrire ai frequentatori di quella spiaggia libera che prima di oggi godevano del bagnino di salvataggio dal venerdì alla domenica fino alla fine di luglio. Poi dal primo al 31 agosto tutte le spiagge libere del litorale pesarese disporranno come da normativa del guardia spiaggia, bagnino di salvataggio che è presente sin da oggi necessario per far fronte al pericolo individuato. Il mese scorso si è creato col mare mosso un canale di risacca, quindi una buca al termine tecnico con una corrente che si chiama corrente di ritorno che porta al largo. Questo canale si attiva solo e esclusivamente col mare mosso per un eccesso di acqua in battigia forza una via d'uscita verso il largo e la forza tra delle secche, quindi delle zone in cui si tocca bene, forza questo canale di ritorno, questa corrente di ritorno e scava una buca, scava un canale che porta fuori, porta al largo. Il bagnante medio non lo sa, non lo conosce, a volte si trova in difficoltà, finisce involontariamente in queste buche e viene trasportato dalla corrente sempre più al largo ed è un pericolo. Questa esigenza ha comportato una rapida riorganizzazione dei turni dei bagnini. Un organico abbastanza ampio e quindi nell'emergenza immediata sì, alcuni turni sono stati spostati, abbiamo un po' di flessibilità con i ragazzi, quindi siamo riusciti nell'immediato, nel giro di poche ore, a riuscire ad organizzarci e per oggi poi avere il servizio. Quindi ragazzi che magari erano a riposo sono riuscito a rinserirli per poi dopo in seguito riavranno giorni di libri. Un'equipe di bagnini di salvataggio che nella giornata di domenica scorsa ha visto da vicino come quella corrente d'acqua che da oggi è segnalata a tutti, ha potuto mettere in pericolo la vita di due signore. Io con altri due colleghi hanno visto due signore in difficoltà che annaspavano proprio all'altezza del canale, della buca, sono usciti a nuoto con il rescue can per andare a soccorrerle, io subito dietro di loro con il moscone, ho raggiunto in particolare la signora più lontano che era anche quella più in difficoltà e l'abbiamo trasportata a riva, per fortuna la questione si è risolta, il salvataggio si è risolto in maniera positiva, l'abbiamo portata a riva è stato necessario comunque attivare il 118 e somministrare ossigeno a una signora perché aveva bevuto e Anna Spava era in difficoltà, però insomma arrivato il 118 la situazione si è risolta in modo positivo, quindi bisogna stare molto attenti, bisogna seguire le indicazioni soprattutto con bandiera rossa, le indicazioni del bagnino di salvataggio, chiedere, informarsi al bagnino di salvataggio che è anche qui apposta per dare informazione, per farsi indicare le zone dove il bagno, poter fare il bagno in maniera più sicura.